E' arrivato con due ore di ritardo Matteo Salvini nel carcere di Santa Maria Capovetere per dare solidarietà ai 117 indagati per la maggioranza guardie penitenziarie nell'inchiesta scattata per i violenti pestaggi avvenuti nei confronti dei detenuti del reparto Nilo. Una mattanza, come sarà definita da molti, ripresa dalle telecamere di sorveglianza e le cui immagini sono diventate virali sul web dopo la pubblicazione da parte del quotidiano Il Domani. Nelle due ore di attesa però a tenere compagnia e tanti giornalisti accorsi per intervistare l'ex ministro dell'interno ci hanno pensato i rappresentanti del sindacato autonomo di polizia e la direttrice del carcere Elisabetta Palmieri che davanti alle telecamere ha raccontato di aver appreso l'intera vicenda dalla stampa. Le immagini vedo tutta la frustrazione del nostro personale che subisce sempre tutti i giorni e continua adesso là dentro. Se si imbicca un detenuto il nostro collega lo salva. La testimonianza non lo so chi l'abbia detto, probabilmente anche da denunciare chi ha detto una cosa del genere, perché io ero assolutamente assente, sono stata assente per un periodo lungo per motivi di salute. Il percorso giudiziario è appena iniziato, giusto? Ci sono state delle misure cautelari, anche molto forti, dopo 14 mesi e ora è tutto da... voglio dire, quella è l'accusa, adesso subentra la difesa. Alla direttrice risponde così la garante dei detenuti di Caserta, Emanuela Belcuore. Io non voglio che vengano spenti i riflettori, sono giornate cogitate, giornate in cui c'è il fuoco, però ci sono tanti familiari disperati da un anno, detenuti che non solo hanno avuto problemi fisici, denti saltati, lividi e quant'altro, ma problemi morali, cioè il tempo e la paura che hanno avuto da un anno a questa parte, vedendo poi ogni giorno stando in carcere e vedendo gli agenti che li avevano malmenati, chi restituisce tutto questo ai detenuti? Poi è arrivato il momento di Salvini. Ritenevo mio dovere essere qua a ricordare che chi sbaglia paga, anche e soprattutto se indossa una divisa, punto. Questo però non vuol dire infamare e mettere a rischio la vita di 40.000 donne e uomini in divisa del corpo della polizia penitenziaria, che rendono questo paese un paese più sicuro.